Benvenuti a questa nuova lezione del corso Tinkercad, oggi esploreremo l'ultima sezione del menu a tendina, la sezione U, dove vi farò vedere come creare forme preferite o personalizzare le vostre forme in modo da poterle poi ritrovare con facilità. Degli altri menu ne abbiamo parlato in tutte le lezioni precedenti, quindi varie forme di base, testi, numeri, se volete andare a rivedere qualcosa potete ricercarle tutte nella lezione numero 4, se non ricordo male, esatto, nella lezione numero 4 dove abbiamo parlato delle forme, vi ricordo molto brevemente, questi sono i solidi di base, quindi testi, numeri, comunque quelli che abbiamo usato di più, gli shape generator che sono forme caricate dalla community che hanno varie caratteristiche, quindi che possono essere in qualche modo modificati, i circuiti per simulare assemblaggi elettronici, i printable kits, il dinosauro e lo scheletro, vi ricordo che questi non sono modificabili e che vi permettono importando le forme di andare a ricostruire il modello dello scheletro. Ok, ora rimporto qualche forma, vi ricordo che naturalmente le forme possono essere ruotate, possono diventare pieni, vuoti, ma non potete andare a modificarne le dimensioni. Bene, perfetto. Spostiamoci sull'ultima sezione, che è la sezione U, che non è una sezione che vi offre forme diverse, ma è una sezione che vi permette di personalizzare un po' quelle che sono le vostre forme preferite, quindi se apriamo preferiti in questo momento è vuota, perché ancora non abbiamo impostato nessuna forma preferita, le forme preferite banalmente sono quelle che si utilizzano più spesso, quindi se per esempio torniamo alle forme base, io so che utilizzo molto spesso la piramide, ho la possibilità di evidenziarla andando a cliccare, a attivare, vedete, questa stellina. Così è disattivata, di base sono tutte disattivate, se ci clicco sopra l'ho contrassegnata come una forma preferita, dove vado a ritrovarla? Qui, all'interno del menu preferiti, ecco qui, è comparsa la mia piramide. Questo può essere fatto per tutte le forme che voglio, quindi per esempio in Shape Generator voglio le mappe dell'Europa, le contrassegno con la stellina e in preferiti, ecco qua che compare. Quindi queste, soprattutto se si disegna con forme particolari o forme dove magari in Shape Generator stanno nella settima, ottava, nona pagina, può essere più comodo contrassegnarli e invece di cercarle tutte le volte andare a ritrovarli direttamente nei preferiti. Magari ha un po' meno senso farlo con le forme base, però questo è semplicemente un flusso di lavoro come torna meglio. Andiamo a vedere invece il menu, quello che è raccolta di parti, eccolo qua, che vi permette di creare parti personalizzate. Come si fa? Allora, andiamo a svuotare il nostro piano di lavoro, centriamo nuovamente la vista per semplicità e andiamo a riprendere una forma che vi ho già fatto vedere in precedenza, quindi in Shape Generator il cilindro di estrusione, ok? Eccoci qua, quindi io vado a, come ho fatto prima, modificare leggermente la mia forma del cilindro fino a che mi piace per quello che è o per la funzione che deve avere, benissimo, eccolo qua. A questo punto io posso salvare questa forma che ho creato modificandola, per cui da generatore di forme torno a raccolta di parti, la forma è selezionata, come vedete, e gli dico crea parte. Eccola qui. Questa è una nuova forma che io ho creato manualmente e che posso aggiungere alla mia galleria di forme preferite, quindi gli posso assegnare un nome, per esempio la possiamo chiamare Boomerang. Posso scegliere se inserire una descrizione della forma, un'etichetta, ma soprattutto se la forma che ho disegnato è una forma piena, quindi un solido, e assegnargli un colore, per esempio rosso, oppure una forma vuota, quindi una forma trasparente. In questo caso lasciamola come forma piena. Ultima cosa, prima di salvare, posso decidere se la mia forma deve avere delle dimensioni bloccate, come abbiamo visto nei kit già pronti per la stampa o negli incastri, quindi dando la spunta a questa impostazione la mia forma non sarà più modificabile, ora nel caso non ci interessa, quindi non mettiamo la spunta e diciamo salva parte. Una volta che questa viene salvata, eccola qui, vedete, sta comparendo all'interno di raccolta di parti. Questa è diventata a tutti gli effetti una forma all'interno di Tinkercad, tanto che posso anche metterla tra i preferiti. Posso importarla sul piano di lavoro, eccolo qui, e vedete che è esattamente identica a quella di partenza. Qual è la differenza? che la forma di partenza viene da un solo di estrusione, quindi può essere sempre modificata, eccola qua, bene, e sarà difficile poi andare a ricrearla esattamente come l'ho disegnata. Se lo guardiamo, uguali uguali non sono. Quindi, se ho bisogno di ripetere più volte questa forma, può essere comodo aggiungerla alla mia libreria, in modo che tutte le volte che questa forma mi è utile, posso andare direttamente a riprenderla senza doverla costruire nuovamente da zero. Ultima forma di personalizzazione che vi permette il software è il generatore di forme personali. Questo è un po' più difficile, perché per costruire una forma va fatto mediante linguaggio Java, per cui questo richiede sicuramente un po' di esperienza in più. Quella che create sarà una forma, uno shape generator, che potrete poi andare a condividere in tutti. Come vi dicevo in precedenza, sono forme, sotto il menu shape generator, sotto sezione tutti, come vi dicevo in precedenza, sono le forme condivise dalla community. Bene, con questo si conclude la lezione di oggi, quindi io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Grazie mille.